La giornata della vernice Come tutti ormai sappiamo, oggi è la giornata della vernice qui a Brumtown, quindi pensavo che potremmo ritinteggiare la stazione di controllo. Vi piace la mia idea? Moltissimo, Jin! Potremmo ritinteggiare ognuno una zona diversa. Io posso verniciare il tetto. Finestre! E allora io e Roy ci occuperemo di tutte le pareti. Certo! Ottimo! Allora io penserò a verniciare l'ingresso. Così non dovrebbe mancare nulla. Forza, mettiamoci al lavoro! Sì! Brunner, potresti avvicinare un po' la scala? Sì, signor costruttore! Ehi, fa più piano, Brunner! Mi dispiace! È Sculby! Ma guarda tu! Sculby ricoperto di macchie bianche non è divertente! Sculby! Ciao, signor costruttore! Ciao, Brunner! Perché sei sporco di vernice? Sono passato vicino a un edificio mentre lo tenteggiavano e mi è caduta tutta la vernice bianca attosso! Accidenti! Devi prestare attenzione quando passi vicino alla vernice fresca! Ora lo so! State verniciando anche voi? Potreste per favore coprire le macchie bianche con la vernice gialla? Mi dispiace! Ma qui non abbiamo la vernice gialla! Che cosa dovrei fare? Odio queste bruttissime macchie bianche! Ehi, ci sono! E se dipingessimo Sculby tutto di bianco? Vorresti far diventare Sculby totalmente bianco? Sì! Sì, per favore! Sarebbe sicuramente meglio che avere tutte queste macchie! D'accordo, ci proveremo! Ecco fatto! Ora dà un'occhiata! Come sta tutto bianco? Benissimo, Sculby! Davvero? Fantastica! Grazie, signor costruttore! Grazie, Brunner! Ci vediamo più tardi! Aspetta un secondo! Secondo te starà bene? Certo che starà bene! Ecco fatto! Anche io ho terminato! Ho verniciato tutto! Wow! Ora la stazione di controllo ha un aspetto meraviglioso! Ellie, tu a che punto sei? Ho appena finito! Scusami, Amber! Per sbaglio ti ho sporcato con la vernice! Va tutto bene, Ellie! Ma a quanto pare anche tu sei pieno di vernice! Davvero? Oh, no! Sono coperto di macchie! Lo siamo tutti quanti, Ellie! Non preoccupatevi, ragazzi! Ci penserò io a farvi tornare come nuovi! Ecco! Ora ho finito! Wow! Sono anche più lucido di prima! Grazie, Jin! Prego! Ok, Roy! Ora toccate! Sì! Finirò in un batter d'occhio! Grazie, Jin! Sono spulpi! E i bambini mi adorano tutti come io adoro loro! Ora, invece, è il turno di Amber! Jin! Quello è rosso, non è vero? Esattamente! Senza la vernice rossa non potrei creare il rosa! Guarda qua! Se mischio la vernice bianca e quella rossa... Tadà! Si ottiene il rosa! Wow! Ma è fantastico! Si comincia! Sei tornata come nuova! Grazie, Jin! E adesso tocca a me! Devo verniciarti di verde, quindi... Se mischio il colore giallo con quello blu... Si ottiene il verde! Così! Ottimo! Sei pronto? Oh no! Ho finito la vernice! Non ho più vernice gialla! Ma non abbiamo ancora finito! Hai ragione! Non preoccuparti! Andremo a prendere dell'altra vernice gialla al negozio! Oh! Che cosa? Oh, non c'è! Per favore, avvertitemi quando la riavrete in magazzino, ok? Che cosa è successo? Mi dispiace, Ellie! Ma oggi moltissime persone hanno comprato la vernice gialla... Al negozio non c'è più! No! E intanto io che posso fare? E credo che dovrei aspettare fino a domani! Che cosa? Ma... Io non posso andare tutto il giorno in giro così! Oh no! È terribile! Oh no! Io non ho molti godini da fare! Infatti, cala su flente! Skulby! Ciao, bambini! Oh! Ehi, Skulby! Che cosa ti è successo? Mi era caduta addosso della vernice bianca! E così ho deciso di verniciarmi tutto di bianco! Bello, no? In realtà, no! Sembri un fantasma! Che cosa? Un fantasma? Squadra di soccorso qui è Gin! Oh, ce l'avete! Grazie infinite! Veniamo a prenderla! Ellie! Sì? È di nuovo disponibile la vernice gialla! Davvero? Mi hanno detto che posso andare a prenderla quando voglio! Hanno avuto una consegna prima del previsto! Vado a prenderla! Yuppie! Oh, un fantasma! Ho davvero un aspetto così strano! Fammi dare un'occhiava! Oh, mamma! È vero che sembro un fantasma? No! Non mi sarei dovuto far verniciare tutto di bianco! Forza! Devo trovare immediatamente della vernice gialla! Oh! No! No! Oh! La ruota si è bloccata! Oh no! Per favore, aiutatemi! Qualcuno mi aiuti! Ho preso la vernice gialla! Oh, finalmente! Aiuto! Aiuto! Oh! Aiutatemi! Chi è quello? Ma Scolby! Ellie! Accidenti! Ma cosa ti è successo? Allora la vernice gialla è arrivata? Sì! Ellie ne sarà molto contento! Sono sicura che tornerà con un sorriso stampato in faccia! Questo è lui! Ciao, Ellie! Che cosa sta succedendo? Scolby è bloccato in un corso d'acqua vicino all'ufficio postale! Ora vi mando un video! D'accordo! Oh! Aiutatemi! Scolby! Come mai Scolby è bianco? Che cosa gli è capitato, Ellie? Non lo so! Ma dovete correre qui il più velocemente possibile! Ricevuto, Ellie! Arriviamo subito! Arriviamo subito! Cerca di resistere, Scolby! I ragazzi arriveranno tra poco! Eccoli! Scolby! Polly! Ho una gomma incastrata! Non riesco a muovermi! Non preoccuparti, Scolby! Siamo qui per aiutarti! Amber, puoi controllare la gomma, per favore? Polly, ho trovato il problema! Adesso provo a rimuovere un sasso! Ecco fatto! Ottimo lavoro, Amber! Ehi, Polly! Credo che la cosa migliore sia sollevarlo e spostarlo! Ci sono troppe rocce tra le gomme! Roy, solleviamolo e riportiamolo sulla riva! Coraggio! D'accordo! Sei pronto? Prontissimo! Ok, al mio tre! Uno, due e tre! Ora indietro! Fa derinzione! Quindi è stato il signor costruttore a verniciarti di bianco? Non volevo essere tutto coperto di manchie! So bene come ti senti! Ma adesso devo per forza tornare al mio colore originale? Altrimenti gli studenti non vorranno più farsi accompagnare da me! Tranquillo, Scolby! Qui ho un secchiello di vernice gialla! Ti faremo tornare al tuo vecchio colore in un battibaleno! Ragazzi, volete aiutarmi, vero? Ma certo! Davvero? Grazie infinite, amici! Ora dobbiamo fare in modo che Scolby torni giallo come prima! Sì! Mi fa il solletico! Sta fermo, Scolby! Altrimenti non riesco a verniciare come si deve! D'accordo! Abbiamo finito, Ellie! Guardate, è perfetto! Questo è lo Scolby che conosciamo! Grazie infinite! Non c'è di te! Guarda, Gin! Siamo tutti di nuovo coperti di vernice! Non c'è problema! Ma ora bisognerà riverniciarvi tutti! Perché questa volta non cominciamo da Ellie? Davvero? Abbiamo un problema! Che cosa c'è? Abbiamo finito di nuovo la vernice gialla! Che cosa? Devo aspettare ancora! Oh no! Io voglio essere verniciato immediatamente!